buongiorno innanzitutto grazie ancora per un sacco di contributi che mi stanno arrivando e che mi trovano molto d'accordo su tanti punti sui giocatori che la juve non ha o che in maniera limitata per quanto concerne caratteristiche specifiche niretti ea sono gli unici forse è vero due giocatori da lanciare e che non chiedono palla per poi puntare l'uomo e manca questo tipo di giocatori sicuramente ma il titolo impegnativo volutamente il titolo di questo tanto questa squadra abbia paura ogni tanto non sempre aveva dimostrato di avere paura nelle prime giornate quando andava a prendere alti gli avversari dopo reggio emilia si è tornati indietro probabilmente perché non si ritiene che questa squadra possa sostenere questo tipo di gioco a lungo non lo so è una domanda che mi incuriosisce molto io ieri ho guardato l'inter attenzione lo faceva anche con certe pause perché è vero che pure con l'udinese sul 2 a 0 lui ha rischiato un pari di volte di prendere il gol non ha tenuto sempre questa impronta l'ha tenuta nelle fasi iniziali della partita io riguardavo l'inter l'inter secondo voi sono degli schemi preordinati secondo me assolutamente no qual è la caratteristica forte dell'inter è che quando scende scende avalanga e come dire accorcia molto bene gli spazi tra i reparti quando vanno a prendere alta l'altra squadra la squadra avversaria ieri nel secondo tempo hanno annichilito il benfica vedi una squadra corta che sale quando la juve ha provato sia con lecce che con l'atalanta ad andare a prendere i difensori in fase di costruzione di pensieri avversari si sono spinti in là con lecce chiesa e milic con l'atalanta chiesa e che poi c'erano 30 metri e gli altri centrocampi quindi c'è paura che salendo troppo si possa lasciare scoperto dietro gatti a fine partita ha detto eravamo stanchi abbiamo subito le azioni di coup mines perché erano molto stanchi lì dietro perché erano molto stanchi lì dietro perché lavoravano il doppio di quelli davanti e perché lavoravano il doppio di quelli davanti perché trovavano indietro perché rinculavano indietro ieri chiellini su sky ha detto una cosa sacrosanta il napoli ha preso gol da bellingham perché andava indietro invece su queste in queste fasi di gioco bisogna andare avanti non rinculare ma andare avanti ma in compattezza però ovvio se va avanti uno solo e lasci gli altri dietro no a questa squadra manca la consapevolezza che fatto un gol ne puoi fare anche un secondo e volendo anche un terzo lasciate stare ieri l'inter che ne ha segnato uno solo ma quante palle gol ha creato l'interiere è un po una costante tra l'altro questa squadra creare tanto e raccogliere poco nel giorno in cui raccoglie la metà di quello che crea l'inter le vince tutte 4 a 0 a parte il karma che ieri si è scatenato contro l'autaro no quattro gol in 26 minuti a salerno grina sbagliati 6 6 6 il palo è un tiro sbagliato l'attraverso il tiro sbagliato sarebbe un gol magnifico e quattro volte il portiere gli dare spinta praticamente a tu per tu anzi uno il difensore sulla linea ma un altro l'autaro avrebbe angolata di più sarebbe andato al tiro prima non si può sempre pretendere che segni quattro gol un giocatore ok ma la coralità che si è vista ieri al di là di schemi o non schemi hanno barella che va a recuperare palla michi italian che si butta dentro duran che non è un fuoriclasse ma trova sempre lo spazio per andare a conclusione spesso lo spazio per la conclusione e se gente grato bene con l'autaro ma è una squadra che non ha paura che fatto un gol cerca di fare il secondo poi magari non ce la fa ma il giorno che ci riesce ragazzi questa è una valanga che si abbatte su tutte le squadre ok quindi il giochismo in sé per sé secondo me non è la soluzione di tutti i problemi non è la soluzione di tutti i problemi sarri che è un giochista che è considerato il maestro dei giochisti attuali in questo momento stanno malissimo in campionato vediamo cosa combina col set di questa sera non riesce a farsi seguire dai suoi calciatori neanche la lazio sarà riuscito solo con il napoli poi non c'è più riuscito al celsi non c'è più riuscito la juve non c'è più riuscito la lazio non ci riesce in tutto e per tutto come vuole lui forse non avrà neanche i giocatori adatti la juve ha una squadra che forse non è adatta per giocare come l'inter ma nemmeno ci prova è chiaro che la juve non ha quel centrocampo lì scusate ma ci sono zanzare che rompono anche quest'oggi non ha quel centrocampo lì perché locatelli non va a recuperare palloni rabbio in questo momento non ha gamba fagioli è un regista fagioli è un regista è un ragionatore hai però l'incursore ai miretti che può buttarsi dentro ma deve ricevere la palla deve ricevere la palla da una squadra che gioca nella metà campo avversaria e non in dieci nella metà campo sua come quella foto che si è vista bega perché magari anche frutto del caso perché poi le le fotografie cosa fanno fissano un'immagine e poi dicono è quella questa è la juve non è sempre stata così ma tutti quei lanci lunghi verso chiesa i lanci lunghi verso che non portavano a nulla perché perché fai spendere un sacco di energie vengono sistematicamente raddoppiati e nel momento in cui la palla rincula verso indietro non c'è nessuno che è salito ad accompagnare cosa vuol dire che è meglio difendersi vuol dire che è meglio difendersi vuol dire che è meglio portarsi a casa con 0 a 0 piuttosto che rischiare di prendere l'1 a 0 e non rischiare di provare a fare l'1 a 0 il 2 a 0 il 3 a 0 poi non si possono vincere tutte le partite così ma quell'atteggiamento che si era visto nelle prime tre partite è stato abbandonato perché probabilmente perché si è scelta una situazione più prudente perché è vero a udine la juve aveva subito contro la lazio a un certo punto ha subito con quell'atteggiamento lì è vero ma allora bisogna trovare anche la via di mezzo e l'altra cosa sulla quale dissento la comunicazione non mi è mai piaciuto sentire dire la juve deve mettersi al livello dell'avversario la juve deve mettersi al livello del torino domenica sabato per fare il derby perché probabilmente questo si sentirà no io non dico che bisogna essere presuntuosi come era mai freddi che diceva io non studio gli avversari sono loro che devono studiare la juve ma una via di mezzo anche in questo secondo me non andrebbe male così come dire non è un'equazione che non fare le coppe ti porta a vincere il campionato lo dimostrano dati recenti dati recenti non lo so il napoli l'ha vinto facendo le coppe la juve lo vinceva facendo le coppe l'inter l'ha vinto facendo le coppe quindi non lo so caso mai forse mi permetto di dare un'impostazione diversa a questo tipo di comunicazione visto che lavoro nel campo della comunicazione allora dico può darsi che sia un vantaggio e in ogni caso dobbia fare di tutto per sfruttarlo questo vantaggio di non giocare le fonte mi fermo qua per oggi ragazzi iscrivetevi al canale e ci vediamo questa sera